Buongiorno, buongiorno a tutti, eccomi qua, sono Melissa di Onda Vitale e faccio questo video perché ho lo spunto oggi in questo bellissimo sole, dopo tanta pioggia, per dirvi di mangiare le castagne. Sembrerà una cosa banale, scontata, ma il frutto del periodo ce n'è in abbondanza nei boschi, è ricchissimo di potassio, ha tantissime proprietà benefiche per il nostro corpo, è anche lassativo, è ricca di fibra ed è un alimento completo sotto tutti i punti di vista, ricordatevi che anche Santa Hildegarda de Bingen parlava benissimo delle castagne, diceva che erano un tonico per il corpo, davano energia nella stagione autunnale e quindi appena potete andate a raccogliere le castagne, le castagne l'ideale è andare nel bosco e raccoglierle, io me le sono trovate davanti perché c'è un albero da dove cadono e quindi questo mi ha dato lo spunto per fare questo video, consumare i prodotti nella natura, nella stagione adatta è sempre un toccasana per il nostro benessere. Ciao a tutti e a presto!